Ciao, sta per andare in un programma al quale tengo molto, perché ho deciso di raccontare la storia dei prodotti che mi hanno salvato la vita, ma non è una frase fatta, è proprio credo in senso, perlomeno mi hanno salvato la qualità della vita. Sono qui da solo, nel silenzio, non c'è nessuno di là dalla telecamera, l'ho posizionata io perché volevo fare un racconto, un racconto quasi a me stesso, per ripercorrere quello che mi è successo, il più grande cambiamento che ho avuto nella mia vita, che è legato all'alimentazione, alla scoperta di che cosa è naturale, al capire la differenza tra sintomo e causa e a quello che poi dopo mi ha reso, mi ha fatto capire anche qual era il mio scopo, la mia missione nella vita, compito che tutti noi abbiamo. La storia inizia nel 1989, Loris Reggiani è un pilota di motociclismo ed è un mio amico, correva con l'Apriglia in quel periodo e mi chiama e mi dice, senti Red, verresti in vacanza con noi piloti a Livigno? Dico perché no? Dice andiamo sia a riguardo, io non so sia a riguardo, vabbè ma fregatene. Allora parto, c'erano i piloti che andavano per la maggiore all'ora, quindi Cadalora, Reggiani, c'era Kevin Schrantz, mi ricordo che era scappato, aveva firmato un contratto migliore, lo aspettavano alla Honda in Spagna per le prove, lui era scappato, non sapevano dove fosse, era la Livigno che correva come un pazzo con le moto, le motoslitte, facevano dei casini incredibili, insomma c'era un Valentino Rossi che era un bambino, proprio piccolo, era un bambino e un pomeriggio verso le quattro e mezza in montagna, era intorno al mio giorno del mio compleanno, quindi intorno al 15 dicembre, quindi la stagione invernale deve ancora iniziare perché inizia solitamente con le vacanze di Natale, quindi avevano aperto solo una pista per noi, una pista proprio breve e un pomeriggio verso le quattro e mezza, erano già andati via tutti e io noto che lo ski lift sta ancora andando, dico quasi quasi lo prendo, faccio un'altra discesa, da solo, qui con calma, non ho nessuno che mi guarda, tanto non sono una pippa, quindi quando sto per prendere lo ski lift, sfush, un ragazzino mi anticipa, prende lui lo ski lift, anche io prendo quello dopo, mentre saliamo io mi chiedo, ma questo chi è? Ma da dove salta fuori? Cioè chi è quello che si veste di tutto punto, mette gli scarponi, gli sci, la tuta eccetera e rischia di arrivare sulla pista che non c'è neanche più lo ski lift che funziona perché alle quattro e mezza c'è quasi buio? Mentre mi faccio queste domande lui si volta e mi dice sei redronni? io dico ma c'ho una cuffia fino a qua, gli occhiali, la tuta tirata su che non mi si vede praticamente niente, era freddo, all'ivigno poi fa anche meno 30 e io dico sì, io sono un tuo fan, dico ah bene, saliamo e lui mi dice non fare la pista, vieni a fare il fuoripista con me, io docile come un agnellino obbedisco, ci vado dietro lui, c'era neve sparata, quindi dietro a un cespuglio non c'era neve, c'era terra perché quando viene sparata non cade così ma viene sparata dal basso, quindi dietro a un cespuglio, quindi il mio sci si impunta e comincio a rotolare giù, cado chiaramente rotolo, mi si staccano scii, occhiali, tutto pom pom le racchette che vanno, arrivo in fondo, arrivo in fondo sento che ho un po' male alla spalla, lui scende, bravissimo, mi raccoglie tutto, dice mi dispiace, dico eh vabbè dai non ti preoccupare ok, prendo tutto, apro il baule della macchina, metto la roba in macchina e vado, da quel momento ho avuto un problema a questa spalla, un problema che faceva sì che quando io intervistavo col microfono, facevo così no, dopo due minuti non aveva più forza nel braccio, il braccio cadeva giù, rimaneva giù e io dovevo usare la sinistra, la medicina faceva di tutto, ha provato di tutto, pomate, addirittura infiltrazione al cortisone, veniva il primario dell'ospedale, signore Dronni, che faccio io, mi lasci quest'onore, io vabbè però qua qui, eh non lo sappiamo, qui, fanno tutte queste robe, niente, in quel periodo io inizio a lavorare con Gianni Morandi, a fare la storia della vita di Gianni Morandi, quindi dico con Gianni, dico guarda Gianni nel fare la storia della tua vita non possiamo prescindere da tua madre, quindi dobbiamo intervistare la tua madre e Gianni mi dice no guarda mia madre sta male perché le hanno messo in passato dei chiodi nelle anche e adesso questi chiodi gli fanno un male incredibile, è costata ad andare con le stampelle, soffre sempre, anzi dice oggi visto che andiamo a girare a Rimini se non ti scoccia ci fermiamo in un posto che mi ha detto mogol con degli oli essenziali a forri in popoli, dico beh fermiamoci, quindi carichiamo la madre, la vedo scendere dalla macchina sofferente con le stampelle, ogni passo una smorfia di dolore entra in questo centro di oli essenziali, io non avevo mai sentito parlare di oli essenziali, dopo una settimana dice Gianni, perché noi lavoravamo tutti i giorni, dice sai che possiamo andare a intervistare mia madre, dico come, ma sta bene, ma ha detto che sta bene, al che andiamo, lei esce dalla pensione, non ha più le stampelle, è sorridente e io e Gianni guardano qui, ma, dico ma signora, ah sì mi hanno, mi hanno, non mangio più le lasagne, i tortellini, mi fanno dei massaggi con della roba strana che fa un odore, allora dico ma vuoi vedere che mi possono risolvere il problema della spalla, al che vado lì, dico ma voi potete, dice certo, vieni, mi fanno una vista iridologica, cioè nel senso che mi mettono, come quando si vai dall'oculista, solo che invece di guardarti dentro alla pupilla, dentro, ti guardano nell'iride, comincio a dire, ti sei rotto il braccio, dice ti sei rotto il braccio sinistro, polso, gli dicono polso sinistro non me lo sono rotto, cioè polso sinistro, mi state prendendo in giro, volete fare i fenomeni, non mi sono rotto il polso sinistro, me lo ricorderei, dice strano perché risulta, ma risulta, ma mi state prendendo, cioè dal mio iride risulta che mi sono rotto il polso sinistro, ma dai, dice ma vabbè, però continua nel dirmi le cose, hai capito, continua e scopre che tutte le cose che mi dice riguardo alla mia salute sono assolutamente vere, al che io gli dico, ma dico, comincio a cercare di memorizzare me col polso sinistro ingessato, porca vacca aveva ragione, quando avevo 18 anni, la mia prima macchina era una 500, 18-19 anni, a Bologna una strada aveva cambiato il senso unico e la precedenza, sono stato tranquillo, una macchina mi ha preso in pieno e mi ha mandato a sbattere contro un palo della luce, ho sbattuto, la 500 non è che, è una macchina grande, non sto neanche come facessi starci dentro, poi mi ha sbattuto il polso e me l'ho rotto, al che dico, ma questi sono pazzi, ma io mi fido di questi a questo punto, dico, vabbè, cosa devo fare? Dice, vabbè, tu devi, poi succede un'altra cosa nel frattempo, mentre aspetto di fare il primo massaggio, viene da me un ragazzo alto, dice, ciao Red, dico, ciao, dice, io sono Pro Vitali, del Cagliari, dico, ah, scusami, dico, sono un calciatore, dice, sì, sì, sono un capocannoniere, e guarda, scusa, ma io il calcio, dico, ma come mai sei qui? Dice, ah, perché ho la pubalgia, allora il medico ha detto che la mia stagione è finita, ma io voglio vincere il capocannoniere, dico, scusa, ferma un attimo, ma il medico del Cagliari, sì, dico, ma se il medico del Cagliari dice che la tua stagione è finita, cioè il Cagliari avrà interesse che tu giochi? È certo, è il capocannoniere, era in serie B, dico, ma se il medico ha interesse che tu giochi, e ti dice la stagione è finita, è finita, cioè, no, sì, io vengo qui, faccio alcuni massaggi, regolo tutto, prendo gli oli essenziali, domenica io gioco, io la guardico, questo è matto, cioè, io ero normale, come le persone normali, esiste un'alimentazione dove ti dicono che bisogna mangiare di tutto, ma poco, ma di tutto, ci sono i medici che ti dicono questo e questo, c'è la farmacologia, pubalgia, stagione è finita. Per curiosità, il lunedì ho comprato il giornale, Pro Vitali ha giocato e ha fatto gol, quindi, e ha vinto quell'anno il capocannoniere, quindi aveva ragione lui, non il medico del Cagliari, e già questo mi comincia a destabilizzare, dopodiché mi fanno i massaggi e scopro che insistono sull'intestino e io dico, scusa, è, forse non te l'hanno detto, il problema ce l'ho alla spalla. La massaggiatrice, mi ricordo ancora Gabriella, mi dice, sì, questo è il sintomo, la causa è l'intestino. No, dico, il sintomo è che io mi sono, scusa, ma sono rotolato, ho fatto male alla spalla, non alla pancia. Sì, ma ti sei fatto male alla spalla anche perché era debole, quindi era facilmente colpibile, diciamo, perché hai vivi le difese immunitarie sulla spalla molto basse, dobbiamo farti alzare le difese immunitarie, siccome è l'intestino infiammato dipende tutto da qui. Dopodiché mi dicono, devi smettere di mangiare carne, latte e latticini. Cosa? Io ero uno che aveva un record che mi sarei riservato di battere alla prossima cena con gli amici, 29 costolette di maiale ai ferri in una cena. Inoltre io vivevo dei cappuccini, alle 5 del mattino sapevo esattamente, mi ricordo, cioè c'è proprio il cappuccino per me era una roba, anche se bevo il bar aperto, prima di andare a letto bevevo il cappuccino, quindi dice no, ma non per sempre, tre mesi, tre mesi, vabbè tre mesi posso accettare, quindi per tre mesi mi impongo, non mangio né carne, io sono né carne né latte né latticini. Segno sul calendario il giorno del cappuccino dei, quindi dopo i tre mesi sul calendario della liberazione da questa imposizione, però succede una cosa strana, dunque tanto per cominciare la spalla comincia a migliorare, tant'è vero che io che la spalla la stavo solo così adesso faccio tutto quello che voglio, per dire, la spalla comincia a migliorare, ma soprattutto c'è una cosa molto strana, un giorno per dire, rientro da Milano, mi chiamano i miei amici, mi dicono, ehi, organizziamo la cena, vieni, dico, ma sì, dai, vado, poi dentro di me dico, stasera trascedisco, anche se una sera mangio carne, insomma, arrivo alla cena con gli amici, quelli del bar, quelli proprio del bar, e mi danno il primo piatto gramigna con salsiccia, uno dei miei piatti preferiti, faccio per mettere la forchetta nel piatto e sento puzza, dico, ma è andata male il salsiccia? E io e tutti i miei amici, buono uccine ancora, dico, ma fappa puzza, ma che puzza, ma sei scemo, ti sei montato la testa? Dopodiché arrivano le costolette di maiale e ferri, le mie preferite, quelle per quali io battevi record, mi trovo questa costoletta, ti premetto, non avevo mangiato mezzogiorno, quindi avevo una fame incredibile, trovo questa costoletta, me la trovo davanti, la mangio, ma non mi piace neanche più il sapore, mi costringo a mangiarla e poi non ce la faccio ad andare avanti, c'era delle cipolle, ho mangiato delle cipolle, dopo 20 minuti che avevo mangiato la costoletta di maiale, ho avuto una diarrea fulminante, quindi il corpo ha rifiutato quella roba che è entrata dentro, proprio immediatamente, non è finita, dopo i tre mesi, giorno del cappuccino dei, vado in un bar, cappuccino, ha detto tre mesi, ho rispettato cappuccino, tanto con la spalla cominciava già a stare molto meglio, bevo il cappuccino, tutto il giorno un'acidità su e giù, tutto il giorno la deglutire, allora chiamo Bruno, che era il mio amico, quello del centro Engel, dove ero stato, dico Bruno ma cosa succede? Lui mi ha detto, finalmente esco, dico ma era andato male il latte? Dice no, no, è quello il male che ti fa il latte, solo che fin quando tu ne sei inquinato, c'hai quelli che dicono gli enzimi, che sono pippe, il corpo si abitua a tutto, persino al veneno del serpente, i fachiri sopportano il veneno del serpente, piano piano si abituano, ma non è che i fachiri stiano bene, attenzione, non è che il veneno del serpente, se vedete la faccia dei fachiri sono pieni di rughe, scavate da problemi che hanno, quindi così, tu ti abitui a tutto, ti abitui, che ne so, al latte, ti abitui alla droga, quindi ti abitui alla droga, tant'è vero che le overdose sono dovute da tre fattori, le overdose quando uno dice morto di overdose, o perché lui ha deciso di farla finita, o perché era droga tagliata male, oppure perché, come nel caso di Sid Vicious, ti sei nel frattempo disintossicato, esci di prigione, come ha fatto Sid Vicious, o un tossico che decide di tornare a farsi, e usa la stessa dose di quando aveva smesso, solo che nel frattempo il corpo si è pulito, non è abituato a questa dose, pam, muore, ecco questo è, quindi ti abitui a tutto, comunque cambia tutta la mia vita, non solo grazie all'alimentazione, ma grazie a questi sconosciuti, misconosciuti oli essenziali, che non sapevo cosa fossero, e comincio a prendere i prodotti, questi, questo era il primo marchio della BAC, questi oli strani, ciò che mi accompagna soprattutto è un olio, si chiama Strongful, con un profumo incredibile, che è un olio che serve per il corpo, toglie l'acido lattico, pulisce, però uno può anche bere, in realtà questo è liquido, però c'è spray, perché? Perché sono intercambiabili, cioè è la forza delle piante, le piante pure, improvvisamente io smetto di usare medicine, smetto di usare antibiotici, questa è una crema fantastica, adesso azzurra, la CRB, questa è un disinfettante potentissimo, la mia preferita, questa, la Golden, ecco io comincio a entrare nel mondo di questi oli essenziali, questa è una roba che, fantastica, cioè incredibile, sono gli oli essenziali, comincio a scoprire che non riesco più a farne meno, cioè il dentifricio, sono talmente abituato al dentifricio con oli essenziali, che se sono in un hotel e per caso mi sono dovuto fermare l'improvviso che non ho con me i miei prodotti, c'è il prodotto di albicino i miei prodotti, io non mi lavo i denti col dentifricio che c'è nell'albergo o con uno che posso comprare, preferisco un shaving gum, se io mi trovo, qui non ce l'ho lo shampoo, ma se mi trovo in una situazione in cui devo lavarmi i capelli senza quello shampoo, senza lo shampoo mio, sento che lo shampoo che mi metto sopra mi tappa i poli, sento come se mi soffocasse la testa, quindi perché? Perché mi sono abituato alle piante, alla naturalezza della pianta dove non c'è nulla di chimico. Cosa ha comportato tutto questo? Un cambiamento radicale nella mia vita, perché parlavo di cambiamenti, perché improvvisamente mi sono reso conto, allora è come se io uso gli occhiali, è come se uno ci fosse gli occhiali con del grasso sopra, dell'unto, e improvvisamente lui crede di vedere perché è abituato, agli occhiali così crede che vedere sia quello, in realtà arriva uno che dice, ehi ti toglio gli occhiali, te li lava per bene, anche gli occhiali me li lavo con questi prodotti, mette e tu dici, adesso so cosa significa vedere, quindi da quel momento io ho cominciato a capire cosa significava l'energia, cosa significava stare bene, cosa significava guardare lontano, oltre a ciò che ti è permesso, andare oltre, cosa significava sentire, sentire le energie, peraltro per uno come me che fa le interviste è importantissimo captare la persona che hai di fronte, sentire fin dove ti puoi spingere, l'intervista io dico sempre che è un po' come fare l'amore, fare l'amore devi vedere fin dove ti puoi spingere, dove puoi portare il tuo partner, l'intervista è la stessa cosa, devi essere dolce, però ogni tanto devi portarlo a fare, ecco questa sensibilità l'ho acquisita soprattutto quando sono diventato vegetariano e ho cominciato a usare oli essenziali come prodotti, poi capisci qual è la tua missione, c'è perché, comincia ad accettare tutti i fatti negativi della tua infanzia che ti hanno portato a essere quello che sei, perché tutto ciò che ci succede nell'infanzia ci serve o per espiare pene che abbiamo commesso quando eravamo bambini, no, prima, oppure per essere preparati, cioè se io non patisco la solitudine e l'abbandono come posso aiutare uno che è solo o che è abbandonato, nel senso io non sono mai stato violentato sessualmente, quando una ragazza mi dice sono stata violentata sessualmente capisco che può essere una cosa, che è una cosa molto brutta, ma è un dolore che non conosco, è un po' come il dolore della perdita, la morte di una persona a cui tieni molto, quando senti un altro che ti racconta la morte di una persona è, se tu l'hai provata sai cosa prova quell'altra, ma se tu non sai cos'è è come il parto, bellezza incredibile, ma io non potrò mai partorire e quindi non so com'è, capisco che per una donna è qualcosa di magico, noi uomini invidiamo la donna, per quello gli uomini vogliono farle creativi perché poi invidiano la donna la creatività sublime che è quella della vita, ecco perché tutto ciò che ti succede serve per prepararti, io uso fare un esempio che è quello dell'ufficiale gentiluomo, che è quello che ne so, Richard Geer che arriva con una moto bellissima vestito di bianco e aspetta la sua bella, sì ma 20 minuti prima era in mezzo al fango con gli istruttori, allora se tu focalizzi quei 20 minuti dici perché devo fare questo, ti ribelli, se invece tu accetti quello che stai facendo poi avrai il vestito bianco, la moto e aspetti la tua bella perché ti sei preparato, quindi cominci a capire queste cose, ho cominciato a capire anche la responsabilità di ciò che facevo, quando fai qualcosa in pubblico hai delle responsabilità, io non sono d'accordo con quelli che pubblicizzano dei prodotti che magari a volte erano delle fregature per dei clienti o dei prodotti che sono dall'usia alla salute eccetera, perché tu sei responsabile, tant'è vero che questo mio cambiamento di alimentazione e con oli essenziali ha coinciso con una mia autoemarginazione e un'emarginazione del mondo diciamo televisivo, perché quando mi chiama Publitalia, cosa che è successa e mi chiede senti Red, quanti soldi vorresti per fare pubblicità a una caramella, di cui non faccio il nome, io dico, era il 90, era vota alla voce, io dico mandatemi l'analisi chimica di quella caramella, come mandatemi, scotta abbiamo chiesto quanti soldi vuoi, ho detto mandatemi l'analisi chimica, perché se è dannosa la salute non la pubblicizzo, io so per certo, invece che un mio amico ascoltava che quando questo è messo giù ad Ettore Droni si è bevuto il cervello, è chiaro che tu non puoi, io ti pago, ma mi è successo parecchio, mi è successo poi con Roxy Bar quando quindi io sono uscito dalla tv ho fatto Roxy Bar su Video Music, avendo anche dei grandi successi perché abbiamo vinto tre Telegati battendo il Festival di Sanremo per tre anni consecutivi, quindi però con questo nuovo concetto, il Roxy Bar è diventato questo punto appetibilissimo per gli sponsor, ma io ho detto di no, ho detto di no a carne, ho detto di no ad alcol, perché non posso, è il periodo delle strade del sabato sera, non posso avere uno sponsor di alcol e dopo che ho raccomandato ai ragazzi di non sballare, di non ubriacarsi o di non drogarsi eccetera, ma di rimanere lucidi, dico ragazzi ehi qui c'è questo prodotto alcolico, prendete e bevetene, cioè no, è un, chiaro che dici di no a tanti soldi, ma non solo dici di no a questi soldi, ma dici di no anche a tanti altri possibili sponsor, perché? Perché gli sponsor, cioè le aziende, fanno parte di centri media, cioè un centro media che decide dove investire i soldi di questa azienda, viene da me e mi dice guarda che questo formaggio vorrebbe, cosa è accaduta, questo formaggio vorrebbe fare pubblicità, io dico no, è chiaro che quando arriva Re Plastic, cosa è successa? Che vorrebbe fare pubblicità a Roxy Bar perché il riciclaggio di materia di plastica era perfetto per il Roxy Bar dove parlo di salute, loro gli dicono ma no a Redroni è uno stronzo ingestibile, lascia stare, andiamo da un'altra parte, cioè boicottene il mio programma, perché io debbo sparire, perché io rappresento un problema, perché per loro è un problema, perché il cliente dice come? Io voglio quel programma, io pago e tu me lo devi dare e tu gli devi spiegare che questo stronzo, cioè io, dice di no, perché non vuole il tuo prodotto, questo stronzo, hai capito? Quando incontra il signor Cremonini delle canne dice, lei dice che la carne fa male, non lo dico io, lo dice Veronese, lo dico io, lo dice il massimo oncologo, che uno che mangia carne è molto più facilitato ad avere il tumore, inoltre noi non siamo carnivori perché il nostro intestino non è quello dei carnivori, cerco di spiegare, ma lui vive con la carne, si compra il caravaggio con la carne, non posso io andargli a rompere le scatole, ma è logico, lui fa il suo business, lui è ancora una persona che crede che è in lotta per diventare il più ricco del cimitero e io gli lascio questa lotta, cioè ce ne sono tanti che sono in guerra per diventare i più ricchi del cimitero, va bene, c'è chi si è anche fatto costruire dei mausolei da architetti, quindi mausolei funeri, quindi sai, va bene, non è mica quello il problema. Diciamo che ho capito tante cose, ho capito grazie all'alimentazione e grazie all'uso, al fatto che io ho cominciato ad avere a che fare con gli oli essenziali, ho capito, ho visto, insomma la mia vita è tutta cambiata, per questo, quando incontro quelli che mi dicono, che mi prendono in giro perché, perché mi batto per queste cose, mi dicono non sai cosa ti perdi, no, siete voi che non sapete cosa vi perdete, perché io so cosa ho perso, perché io vi ricordo che ho il record, 29 costuretti di maiale ai ferri in una singola cena, battetemi, quindi io entravo nel ristorante, mi faceva vedere un mascarpone appena fatto e diceva, beh intanto dammelo come antipasto e mi mangiavo un mascarpone appena fatto come antipasto, quindi io so cosa ho perso e so cosa ho guadagnato ed è enorme ciò che ho guadagnato, questa è la storia e a questo punto io mi chiedo, ma quel ragazzino che ha fatto sì che io cadessi, chi era? Perché a volte noi incontriamo degli angeli, non dico che lui fosse un angelo, ma lui era uno strumento perché mi accadesse qualcosa, perché se io non avevo male alla spalla, se la medicina non riusciva, non fosse riuscita a guarirmi col cortisone e con tutto il resto, io non sarei mai entrato alla Engel di Forlimpopoli, non avrei mai usato gli oli essenziali, non sarei mai diventato vegetariano prima e vegano poi, perché prima era per un fatto di salute, il fatto di smettere, io non ho iniziato a diventare vegetariano per un fatto etico, dopodiché ho maturato un diverso rispetto per ogni forma vivente, è buffo, proprio qui abbiamo avuto una discussione con Ruggeri sul fatto di ammazzare o non le zanzare che non vanno ammazzate, però al di là di questo, dopo cinque anni che ero vegetariano, che in realtà mangiavo pesce, un giorno mi hanno fatto vedere una ragosta viva e mi hanno detto guardi i signori Droni che bella ragosta, io ho pensato che le andavano a bollire viva per darmela da mangiare e ho detto di no al pesce, poi in seguito Veronesi mi ha detto che ho fatto bene perché stanno già ricontrando da tempo tumori negli orsi bianchi del polo nord perché mangiano del pesce che con la catena alimentare hanno mangiato un altro pesce eccetera quindi ognuno mangia le malattie del resto e il mare molto inquinate quindi anche il pesce non è che faccia così bene, uno potrebbe dire ma anche la verdura è inquinata, si ho capito, ma se tu devi prendere una verdura dove ci togliamo anche se non è biologico, se anche dicono che è biologica eccetera, vabbè mangi un po' di veleno, ma se tu mangi un animale al di là del fatto che viene uccisa, assassinata una vita, io uso la parola assassinata e dice ma non è forte, Leonardo da Vinci diceva verrà il giorno in cui considereremo gli animali erano strego degli esseri umani, vorrei ricordare che i negri erano considerati animali, oggi un negro è presidente degli Stati Uniti d'America, per come consideriamo noi i negri, non i neri o la gente di colore come oggi educatamente diciamo, loro erano negri, erano schiavi ed erano animali, tant'è vero che le tette dei negri, delle negre si potevano far vedere, quelli che andavano in Abissinia mandavano le foto e c'erano le foto delle negre nude, perché erano come le tette e le mammelle di un animale, perché venivano causati animali, quindi capito, non sto dicendo oggi anche sono, sto dicendo quello che era, quindi la stessa strego oggi, oggi noi consideriamo gli animali, c'è chi così gli animali degli animali, gli animali sono degli esseri viventi, che sanno quando stanno per morire, che scatenano acido urico, che nell'intestino scatenano putrescina cadaverina e soprattutto noi mangiamo una roba che ci fa del male, che sono allevati nella sofferenza, che sono allevati nell'inquinamento, che sono allevati con un'alimentazione altro che l'insalata con un po' di pesticidi magari, quindi ecco, credo di aver raccontato un po' tutto, quello che è stato il mio più grande cambiamento, che ha fatto sì che abbia capito anche che c'è un sintomo e c'è una causa, noi oggi viviamo curando i sintomi, è come se uno va dal meccanico e dice guardami se c'è una spia nel cruscotto, il meccanico svita la lampadina, che è il sintomo che qualcosa non va, è un allarme e dice vada tranquillo, vedi non c'è più, tu non hai risolto il problema, non sei andato alla causa, ma c'è interesse a non risolvere la causa, perché una volta che tu hai risolto la causa, l'hai risolto una volta per tutto, quindi è dal 1990 che io non mi ammalo, è dal 1990 che io non sono costretto a prendere antibiotici, che non entro in farmacia se non per prendere cose naturali, quindi io sono un grave disastro per la farmacologia, mi dispiace, attenzione, però per loro, per il loro business, attenzione, ma dico sul serio, perché c'è tanta gente che lavora con la farmacologia, ma non ci posso fare niente, quindi c'era un periodo in cui in Inghilterra vivevano di carbone, poi dopo hanno deciso che il carbone non è, allora la gente si è riciclata, perché tu puoi fare carbone solo in Italia, continuiamo a mantenere in Sardegna le miniere di carbone per dar lavoro a dei minatori invece di rendere questi minatori bravissimi nel turismo, starebbero non sottoterra ma sopra la terra, vivrebbero benissimo, guadagnerebbero di più, è inutile, il carbone non è più, è obsoleto, quindi il mondo cambia, quindi inevitabilmente, quindi ci sarà un mondo in cui anche non ci sarà più bisogno della farmacologia e ci sarà bisogno degli oli essenziali e ci correremo con la natura come l'uomo ha sempre fatto. Sono andato a Cuba, a Cuba ho visto Consuelo Campauergo che è concita, come concita non so neanche pronunciare il suo nome e cognome, concita, membro del buro politico, presidente dell'istituto Finley, ha inventato il vaccino per la meningite dei bambini, lei si è guarito un tumore con l'alimentazione e con l'alimentazione macrobiotica, il professor Pienesi che non vuole essere intervistato, che è la macrobiotica, zero, quindi con cibo non cotto, se non cotto con i raggi del sole o crudo, eccetera, lei mi ha fatto vedere e io ho chiesto, ho intervistato, che lei sta guarendo con solo l'alimentazione macrobiotica, Alzheimer, Parkinson e diabete, allo stato terminale, mettono via le insolite in un mese, quindi io le ho viste queste cose, sono andato a Trinidad, mi hanno portato in una foresta e nel descrivermi la foresta mi dicevano questa pianta va benissimo, con queste foglie ti puoi tamponare un'emoragia perché fa cicatrizare, questa foglie serve per il fegato, sono andato in Sardegna, Sardegna Palau e Chiesa di San Giorgio sono dei sassi dove gli antichi andavano a curarsi su questi massi, c'era quello per il fegato, quello per lo stomaco, quello per, ti portavo in un'altra dimensione, cioè la natura ci ha dato tutto, dobbiamo tornare in contatto con la natura e rispettare ogni forma vivente, ci tenevo a dire queste cose, prima di entrare nel mondo di questi prodotti, questi oli essenziali, ma il giorno, la felicità quando finalmente Bruno mi fece il deodorante, senza alcol, poi nel programma adesso capirete tutto, o la terre des sua, lo strofo, questi sono i prodotti della BAC, il sito è becbeclinettanatura.com chi dice Red sta facendo una marchetta pubblicizzando questi prodotti, glielo lascia pensare, un giorno capirà, ciao grazie a tutti